Un importante risultato è messo in cassaforte, c'è il via libera, l'aspetto progettuale, adesso si tenterà la stata del bando, però il lavoro per la salvaguardia della cattedrale del Costone è ancora tanto. Oggi veramente partiamo da un punto concreto, un dato di fatto, gli uffici si sono parlati, è messo nero su bianco, ora la parla passa a Palermo, l'assessorato infrastrutture sarà l'assessorato a cui ci rivolgeremo per partecipare al bando che scade in questo mese di luglio e se il progetto verrà finanziato noi avremo l'opportunità di portare, di mettere in sicurezza il manufatto che è quello che chiede la protezione civile per poter poi agire sul colle e mettere in sicurezza a sua volta il colle. Poco fa lei in convento stampa diceva che ci sono state evidentemente anche delle responsabilità politiche e personali in questa vicenda, tanti ritardi, tanti annunci, adesso bisognerà essere un po' più concreti. Certo, io personalmente dico che tu devi parlare quando hai in mano i risultati, questo di oggi è un risultato concreto e per me oggi è una grande giornata per Agrigento, per chi ha creduto e ha fatto con meticolosità questo lavoro. Ci sono delle responsabilità perché se i soldi non c'erano o si dovevano trovare è inutile fare proclami e dire che c'erano i soldi e poi i soldi non ci stanno. E poi un'altra cosa che oggi mi sembra importante rilevare è che nel momento in cui il manufatto verrà messo in sicurezza la protezione civile dovrà prendere atto e quindi la palla poi passa alla protezione civile e ad un progetto molto ambizioso, molto più costoso e molto più ampio per cui vanno trovate le somme.